Do il mio benvenuto ai soci del Simfer che avranno il loro congresso nel mese di settembre qui all'Università Politecnica delle Marche. Noi siamo nella Facoltà di Ingegneria, come potete vedere, è un polo universitario che è stato progettato negli anni 70 da un architetto italo-americano, Belluschi, e che, come vedete, ha mantenuto un'impostazione molto americana, da campus americano, ed è un luogo pensato esclusivamente per essere impiegato nell'attività universitaria. Io sono molto contento che sia la Facoltà di Ingegneria ad ospitare un congresso di fisiatri, perché la fisiatria è molto vicina all'ingegneria per molti aspetti, sia del movimento, sia della dinamica del corpo umano. Quindi è un argomento veramente interessante che oggi, che siamo in un periodo in cui la multidisciplinarità è molto valutata e molto importante, a me sembra questo un messaggio molto bello, che sia Ingegneria ad ospitare un congresso di medici, in particolare di fisiatri. Se poi tutto questo avviene, come vedete, in un ambiente gradevole, molto ben organizzato, anche dal punto di vista della vita degli studenti e dei docenti, è sicuramente un fatto positivo. Benvenuti a tutti!